Il tempo per squadra ed un risultato ad occhiali che fa più comodo agli ospiti del Savoia che non ai padroni di casa del Gualdo. Umbri pericolosi in avvio, primazione al sesto minuto sul lancio di La Spada, compagno indeciso, Protti tira para Morrone. Ripresa in avvio due punizioni del Savoia, entrambe abbastanza pericolose per la difesa, la prima di Dantimi, la seconda di Carruezzo. Il Savoia attaccherà per tutto il secondo tempo, al quarto d'ora va via Carruezzo sulla sinistra, mette in mezzo un bel pallone, all'appuntamento arriva Marasco, il suo piatto è parato molto bene da Nuzzo, poi Caranante ci prova ancora ma la palla finisce alta. Al sedicesimo è Dantimi a piazzarsi, una bella palla sul sinistro, buono anche il tiro, bella la risposta di Nuzzo. Al ventiquattresimo c'è una punizione bomba calciata da Carruezzo e deviata in angolo da Nuzzo. Al trentottesimo la punizione invece per il Gualdo, Protti e la palla finisce alta e così la partita si chiude sullo 0-0.